Periodo di Team of the Season, non vorrei mica perderteli anche quest'anno. IG Volte, il sito con la consegna più veloce al mondo, sicuro, velocissimo e affidabile. Passa in descrizione, clicca il link e con il codice FULISH avrà un ulteriore sconto del 6%. Ok, eccoci qui, eccoci qui, siamo tornati con un nuovo episodio della carriera allenatore. Allora, sto leggendo che in tantissimi qui sotto nei commenti mi state chiedendo quando arriverà il Team of the Season. Sì, vi ho promesso dei pick-upening del Team of the Season e sicuramente arriveranno. Ho deciso di saltare la fase dei most consistent e io ho un gravissimo problema con l'inglese, devo imparare a parlare in inglese. Perché comunque, a parte Marchese, Sergio e Busquets, non c'era tantissima roba. Quindi appena usciranno i Team of the Season dei vari campionati europei maggiori, inizierò a spacchettare anch'io. Non avevo voglia di buttare via dei crediti per non trovare niente e quando il giocatore più costoso costava 300.000 crediti circa. Quindi state tranquilli che i pick-upening torneranno sul canale. Come sempre, prima di iniziare la carriera, salutiamo l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione e seguitemi sotto tutti i miei social network, per sicurezza. Tra l'altro, piccolo appunto, sto notando che funziona questa cosa perché ho sempre più seguace e sempre più mi piace alle foto. Quindi, ragazzi, vi ringrazio. L'ultimo like è di AleTheKing, che adesso guardate che pronuncia di inglese che ho raggiunto. Ale, an Italian boy, love girl, Italian boy che però parla in inglese. Ecco qui, ciao AleTheKing, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Prima di iniziare però volevo chiedervi una cosa. Ho un secondo canale, come molti di voi sapranno. Abbiamo fatto diverse iscrizioni l'ultima volta che l'ho sponsorizzato sul primo, però ho un dubbio. Quando ho caricato la tipologia di video sul primo canale, che avrei voluto portare sul secondo canale, ha fatto il successo, 13, 14, 15 mila visualizzazioni, tantissimi mi piace. Quando l'ho caricato su quell'altro, ovviamente, non poteva fare lo stesso numero di visualizzazioni. Quindi la questione è questa. Vi piacerebbe che caricassi quei contenuti su questo canale o volete che separi le due cose? Scrivetemi qui sotto un commento per farmi sapere la vostra opinione. Allora, dato che le cose non andavano benissimo, ho deciso di rivoluzionare un attimo la squadra. Boom! Ho deciso di passare al 4-4-2. Sì, anche lo scorso anno con Icardi munire davanti è iniziata ad andare bene la squadra. Ho praticamente sacrificato Carbonero per inserire Zucanovic a fare il terzino e spostare Paduino a destra. Però intanto scateniamo Quadrado Iese sugli esterni. Certo, Iese era molto più importante vicino alla porta, ma quest'anno penso ci penserà Di Bala. Penso ci penserà. Anche con l'italiano non andiamo benissimo, insomma. Però direi che così la squadra può funzionare e può girare. Cosa ve lo dico a fare? Che abbiamo Padoin. La classifica non è bellissima perché siamo sedicesimi con due punti in due partite. Però ragazzi, ci sta. La prima con il Napoli, 0-0, ci può anche stare. E' quella con l'Ellas che mi dà fastidio. Anche se a guardare dove è l'Ellas ha gli stessi punti del Napoli. Quindi ecco qui la formazione titolare, si gioca contro la Roma. Ci siamo? Siamo pronti? Andiamo a fare la storia. Perché dovrebbe crossare Ibra per Di Bala e non il contrario? Perché? Sampdoria-Roma. E attenzione, ci ritroviamo di fronte il nostro pupillo, il nostro ex campione, il nostro ex capo che non era il Maurito Icardi. Avanza De Rossi. Prova a uscire quadrato su di lui, non ce la fa. Nainggolan dentro di prima. Dumbia. Mamma mia come gioca questa Roma. Dylivio dentro per Nainggolan, che si è inserito bene. Ancora Nainggolan qui. Oh! Ma ragazzi, ma questa partenza pulminia che cos'è? I turbi dalla bandierina. Prova a metterla con il suo mancino fatato dentro. Oddio, ma perché ci stanno schiacciando così? Ibra dentro per Di Bala, che si appoggia ancora una volta a Ibra. Ancora una volta è scappato a Di Bala. Ibra l'ha servito. Di Bala da fuori con il destro. Credo Shesny. Credo. Siamo ancora qui però. Con Simone Paduic prova il tiro. Oddio, cosa gli è venuto in mente? Perché Ibra la viene a prendere. Ibra prova a girarsi. Sfida Castani in velocità. Ibra passa lui. Ibra è in area. Ibra De Rossi. Non riesce a contenerlo. Ibra finisce il campo a un certo punto. Noguri prova ad andare. Ancora Noguri. In area. Attenzione. Prova il taglio di Ibra. Lo trova. Ibra è esterno. Ibra deve rientrare. Ancora Ibra ha il palo al piede. Ibra prova a tirare. Non ce la fa. Però la fa a prendere Noguri. Attenzione vuole girarsi ma non la sfruttisce. Vogliamo chiamare in causa anche Quadrado. Che prova il taglio dietro gli Aids. Quadrado. Quadrado in area. Quadrado ancora in posizione regolare. Quadrado che sterza. Quadrado. Prova il tiro. Quadrado. Il palo di Quadrado. Però vedete che lì Quadrado fa male. Korupski la gioca cortissima. Di Bala la prende attenzione. Di Bala quasi fa la foto. Ma non può arrivarci perché scivola. Perché il campo è bagnato. Di Bala c'è il taglio di Quadrado. L'ha visto. L'ha servito. Di Bala con una magia. Quadrado in area. Prova il tiro. Ma c'era palo precedentemente. Quindi sarà punizione dal limite. Guardate però. Guardate Ibra com'è bello lì. Allora Di Bala lo serve. Ibra la stoppa. Ibra prova il tiro. Mamma mia Skorupski. Io voglio far gol con Ibra. Perché? Chi è stato? Perché ha unito Regini? Perché? Va lì indietro. Ma Ibra lo insegue. Senza pietà. Uccidilo. Uccidilo Zlatan. Florenzi se la cava molto bene su Dio. Però arriva Fernando. Che la intercetta. Di Bala. Vede il movimento di Fernando. Si è lanciato dentro Fernando. Attenzione lo sappiamo. Che Fernando quando parte. È un motorino instancabile. Ancora Fernando. Ancora in area. Dentro. Per Ibra. Cosa cazzo hai sbagliato? Zlatan? Zlatan? Non è una cosa da te? Zlatan? Stavo esultando Zlatan. Cazzo. Poi dicono che uno non deve bestemmiare. Ma se Dio sbaglia i gol. Fernando vede il taglio di Di Bala. Che si è smarcato. Di Bala. La porta sul mancino. Mano lasche. Cazzo hai fatto? Ok. Cerchiamo di servire Di Bala. Attenzione Di Bala. Entra in area. Di Bala. Il tiro di Di Bala. E c'è il gol del 1-0. Riusciamo a trovare il gol del 1-0. Grazie a un'invenzione. Ancora una volta di Paulito Di Bala. Secondo gol in campionato. In tre partite. E questa volta non sbaglia. Come ha sbagliato Ibrahim 2 occasioni. Guardate. Piesè. Dentro per Di Bala. Che salta due marcatori in uno. E poi con un tocco morbido. Con il suo sinistro patato. Cosa che io non ho. Riesce a portarci in vantaggio. 1-0 sulla Roma. Skorowski battuto. Enzi no. Non è Di Bala. Non è Di Bala. Ragazzi. Lui è il Pado. Lui è Simone Padoin. Primo gol in Serie A. Simone Padoin. Mamma mia. Ancora più contento. Ancora più felice. Grazie Simone. Grazie. Dal Vangelo secondo Padoin. Il talismano. Noi riproviamo il nostro schema. Di Bala. Dentro. Per Ibra. Che la stoppa. Non riesce neanche a tirare. Zlatan. Inizia a rompermi le balle. Adem Gli Aic. Non farci scherzi. Arriva anche Florenzi. A maggior ragione. Florenzi la finta. Parte Gli Aic. Scuffe. In calcio d'angolo. Quadrado. Padoin. Vuole spingere. E allora noi lo serviamo. Padoin che vuole andare via in velocità. Padoin che va via in velocità. Padoin. Ancora lui. In area. Padoin a giro. Mamma mia. La para. Non c'è il tuo asserro. Non entra questa palla maledetta. Ma Simone Padoin. Cosa sta facendo? Quanti di voi mi hanno detto. Padoin acquisti inutili soldi buttati. Ma guardatelo. Ragazzi. Dobbiamo pressare. Non far uscire la Roma dalla sua metà campo. Munir così. Bravo. Sulle gambe. Va benissimo. Prendi il giallo. Speso da Dio. Hai fatto una partita determinante. Sei stato meglio di Ibra. La prossima sarà il titolare. Te lo giuro. Hai fatto benissimo a prendere il cartellino. Fallo tattico. Grande Munir. Ma finisce qui la partita. 1-0. Simone Padoin. E battiamo la Roma. I primi tre punti stagionali sono firmati dal talismano. Da Simone Padoin. Che ci regala la vittoria. Incredibilmente. C'è neanche l'Eister campione d'Inghilterra. È una favola così bella. Ok. Giochiamo contro il Grasopero. Ho deciso di fare un po' di turnover. E quindi questa sarà la formazione titolare. Però Dibala a Munir è un attacco che mi ispira veramente tanto. E le verde. Attenzione. Verde. Dentro. Per Dibala. Che palla di verde per Dibala. 3 contro 1. Dibala. In aria. Il tiro di Dibala. La palla è ancora lì. Njoguri. 1-0. Direttore. Direttore. Era Duncan. Va bene perché Njoguri non gioca. Direttore. Davvero. Munir. Chiede l'1-2 a Paolo Dibala. L'attenzione Dibala. Vede. Il taglio dietro di Munir. Lo serve. Ma quello era Philippe Senderos. È ancora vivo. Triste come sempre tra l'altro. Cerca di andare proprio su Padoin. Perché sappiamo che è il più forte del mondo. Guardate Padoin. Guardate che in aria. E poi prova il tiro con il sinistro. Ma chi è? Il Messi? Dentro. Munir. Dentro. Dibala. Si appoggia. A Vasco Regini. Che fa andare Carbonero. Dibala. Dentro 1-2 per Carbonero. Era una bella giocata. E ripartiamo. Col capitano. Che si è ripreso dall'infortunio. Sulla corsa. Mamma mia cazzone di Moisander. Munir. E in aria. La cross a Munir. Sul secondo palo. Dove arriva Dibala. Che cosa ha fatto Dibala? Cosa? Caio dalla bandierina. La mette fuori. Dove c'è un ottimo Daniele Rugani. Con uno stop a seguire. E poi in profondità per Dibala. Che cosa ha fatto Rugani? Ha difeso. E ha impostato. Ha fatto l'assist. Per Dibala. Che in aria. Ok. Dentro per Duncan. Che si appoggia. Dibala. Dibala. Con un rimpallo. Riesce ad andare Dibala. Riesce ad accelerare su tutti. Dibala. Rissalta tutti. E in aria. Dibala. E sconto in 1-0. Del nostro fenomeno. Del nostro pupillo. Del nostro gioiello. Del nostro diamante. Abbiamo investito tanto su Paolo Dibala. È vero. 50 milioni sono tantissimi. Mi sono lasciato prendere anche dall'emozione. Ma quando fa delle cose così. In Europa. La prima partita in Europa della Sampdoria. E ci porta su 1-0. Non posso che emozionarmi. Il nostro mercato sta funzionando. Prima Padoin. Ora Dibala. 1-0. E 1-0. E ora vorrei provare a vedere se Ibra riuscirà a fare qualcosa. Quadrado. Vede Carbonero che si propone. Serve invece Iesee. Che è andato in area. Iesee. La crossa. Per Ibra. Sul secondo. Perché non fai gol? Adesso tu mi spieghi. Perché tu non fai gol. Tu questi. Li devi fare. Sei Zlatan Ibrahimović. Può sfondare Iesee. Può andare Iesee. Può allargare Iesee. Potevi fare gol Iesee. Ci sono tutti. Anche il portiere in the box. Ci vogliono credere. Vogliono il pareggio. Parte Kastron dalla bandierina. Proprio per il portiere. Scavalcato. Sarà rimessa laterale per noi. E invece la partita finisce qui. 1-0. Paolo Dibala. Però ragazzi abbiamo un problema serio con Ibra. Non fa gol. E non ti dico il gol difficile. I gol facili. Però con questo 4-4-2 mi trovo veramente a meraviglia. Ci siamo ripresi. Adesso siamo 7. Abbiamo scalato qualche posizione in classifica. Abbiamo vinto la prima partita in Europa. Ma soprattutto sono contento perché la squadra inizia ad andare bene. In molti mi state dicendo che faccio dei video un po' troppo corti. Ma in realtà ragazzi. Se ci credete. Questo video è durato 40 minuti in fase di registrazione. Poi ovviamente io sono un malato di montaggio. E quindi taglio tantissimo. E questo ci porta a 8-10 minuti di video. Penso che sia anche un pregio il mio. Di riuscire a ridurre tutto al minimo. Questo è il mio stile ragazzi. Non posso assolutamente cambiarlo. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così mi metto a mettere un pugno di pollice. E iscrivervi al mio canale. Qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi. Dritto per dritto. E il talismano Simone Paduin inizia a farci sentire.